Anthony Bentivegna lei è il propulsore di questa mostra dedicata appunto di Leonardo Fisco che lei ha chiamato Starman Drag che significa impeto e tempesta, comunque una corrente pittorica. Come mai si è ispirato proprio a questo? La caratteristica di questa mostra che è incentrata praticamente su questi paesaggi a olio è questo rapporto che si percepisce tra l'uomo e la natura che in un certo momento può essere un rapporto benevolo, in altri momenti può essere un rapporto molto drammatico, misterioso. E lo Sturmundrang, la corrente elettorale tedesca, vede proprio nella natura l'habitat e il luogo perfetto in cui l'uomo può entrare in armonia con se stesso e con il creato. Ho notato anche che vi sono due varianti nella maniera, nel linguaggio di Fisco, una variante più anarchica della forma, una variante più risoluta. Per quanto riguarda questa mostra tu hai anche fatto una guida per i visitatori per poter meglio comprendere e vedere le opere del maestro Fisco. Sì, ho immaginato questo viaggio che il pittore intraprende da qui a Stoccarda, in Germania, e il ritorno. Scandisco le varie tappe come in una pagina di diario attraverso delle lettere, che possono essere benissimo delle date anche. Notiamo che da uno step all'altro qualcosa cambia. Questa mostra è un'anteprima dello Shaka Film Fest, sarà aperta da oggi fino al 23 di settembre. Tu curi molti artisti di Shaka e cerchi di portare avanti quello che è l'arte in città. Secondo te ci sono molti artisti come il maestro Fisco che sono appunto attivi da tantissimo tempo, vantano una carriera lunghissima, ma ci sono tanti altri giovani talenti che ancora bisogna scoprire. Che cosa ne pensi? Allora, questa partnership tra lo Shaka Film Fest e il circolo di cultura è molto interessante, perché il circolo di cultura è comunque un punto di riferimento, perché si trova al centro, si trova di fronte alla piazza, quindi dà la possibilità anche ai turisti di vedere anche quando c'è una visita inaspettata. Ci sono molti artisti a Shaka, Shaka ha un grandissimo potenziale artistico, soltanto che bisogna un po' un amico di recente mi ha detto tu hai il dovere di studiare e di far conoscere gli artisti. Per quanto riguarda le nuove guardie io ho visto qualcosa e c'è abbastanza da vedere, sono artisti molto interessanti e in alcuni momenti vanno anche indirizzati. Per quanto riguarda invece la vecchia guardia, sicuramente il maestro Fisco non è uno esponente, secondo te che tipo di artista è? Come lo definiresti? Allora, io divido gli artisti della seconda metà del Novecento per generazioni, seconda, terza e quarta, e ho notato che da una generazione all'altra cambia il parametro linguistico di riferimento, in questo caso Leonardo Fisco è un autore che trova terreno fertile nell'espressionismo tedesco, è un tardo interprete dell'espressionismo, poi vi sono altri autori come ad esempio Gulino che fanno parte della terza generazione e hanno un orientamento più informale, infatti rientrano in quel parametro linguistico, mentre ho notato che gli autori della quarta generazione hanno una sorta di eclettismo, prendono un po' dell'avanguardia, un po' dell'arte moderna e un po' dell'informale. Lo Shocka Film Fest mette a disposizione come sempre anche i propri locali per le mostre, qui siamo al circolo di cultura che come dicevi tu giustamente è un punto di riferimento in città, ma adesso grazie anche appunto allo Shocka Film Fest, alla Vertigo ci sono dei nuovi locali, questi nuovi saloni, da operatore artistico come prendi questa notizia? Sicuramente stimolante, speriamo che riusciamo a trovare un giorno un punto di incontro in maniera tale da magari istituire a Labbadia Grande stesso un museo, una pinacoteca, tutto sta agli accordi che si fanno, a me piacerebbe molto se fosse per me ci sarebbe arte ovunque. Tony Russo, la mostra di Leonardo Fisco qui al Circolo di Cultura, che è l'anteprima dello Shocka Film Fest, in realtà apre anche la stagione del Circolo di Cultura, siamo a settembre, questi sono dei locali al chiuso, quindi ci si aspetta un inverno ricco di iniziative immagino. Sì, diciamo che questa è l'occasione per aprire la nuova stagione autunno-inverno, come si dice di solito, perché già abbiamo programmato per il 21 ottobre un artista che viene dall'Olanda, che è già nostra ospite, che è Grajina Prisbil, e poi avremo a dicembre una mostra fotografica dedicata a Gibellina, quindi saranno questi già tre momenti dedicati all'arte. Naturalmente poi inizieremo anche la stagione concertistica, come sempre, e quindi stiamo lavorando già per preparare il programma.